Salve, ci troviamo nell'agenzia Arte d'Oro. Ciao Nico! Ciao! Nico, vorrei farti un paio di domande. Dimmi! Sappiamo che c'è in progetto il tuo nuovo singolo, accennaci qualcosa. Sì, questo nuovo progetto è un mio nuovo singolo e quello che posso accennarvi è che è un genere diverso. Nico, quando la potremmo ascoltare? Sicuramente a breve. Ci vuoi far ascoltare almeno un accenno? Sì, qualche pezzetto va bene. Ricordo che questa canzone, il video ufficiale, sarà girato da Salvatore Arnold, numero uno. Prossimamente. Grazie. Grazie. Grazie.